Buon pomeriggio. Eccoci con il professor Giovanni Chifari. Grazie ancora una volta di essere qui. Grazie a te e grazie a voi tutti che continuate a seguirci. In effetti abbiamo messo il numero 3 davanti alle decine dei nostri programmi. Su YouTube trovate tutto, persino il nostro promo che vi accompagna anche durante questo anno televisivo. Grazie davvero dell'affetto che dimostrate a Padre Pio TV, ma soprattutto direi che dobbiamo anche ringraziare appunto il professor Giovanni Chifari che ci aiuta a rileggere la Bibbia quando a volte magari la conosciamo abbastanza bene. Pensiamo alle nozze di Cana di cui abbiamo trattato più volte e che oggi torneranno in argomento perché qualcuno di voi ha fatto una domanda quasi tra bocchetto. Giovanni preparati e quindi ne dovremmo riparlare. Però al di là appunto dei passi più celebri, noi in realtà la Sacra Scrittura la conosciamo assai poco. È normale Giovanni? La parola di Dio è in effetti decisiva per comprendere ogni tempo che è sotto questo sole, per comprendere anche, ho citato un po' il libro del Coelette, per comprendere anche la situazione della famiglia bisognosa di profezia. E questa profezia viene dalla parola, parola che è anche alla base di tutti gli ultimi interventi di Papa Francesco, non per ultimo anche l'enciclica sul tema della... la prossima enciclica che aspettiamo che... Se hai delle anticipazioni dicelo subito, ancora il testo io non lo conosco. La prossima enciclica sul tema del creato che a quanto pare dovrebbe uscire in questi mesi, centrata sulla parola ma anche la misericordia e vultus, anche questa è centrata sulla parola come vedremo. In effetti, a proposito di parole e parole chiave, quando prima hai detto sotto questo sole, molti magari avranno avuto in mente invece il ritornello di una canzone, a proposito di andare in bici sotto il sole. Quindi davvero c'è l'alto e c'è il basso, come sempre, nella nostra vita. Intanto però vi ricordo come potete fare anche a commentare questi nostri piccoli siparietti che a volte magari alleggeriscono 0882 418380 con il 39 davanti per chi chiama da fuori Italia. Ma soprattutto grazie per scriverci a Bibbia e Famiglia Chiocciola, Teleradiopadrepio.it. Ho visto che a infochiocciola praticamente non avete più scritto su questo programma e evidentemente quando seguite avete notato che c'è appunto un indirizzo dedicato. Ma naturalmente attraverso il portale teleradiopadrepio.it avete anche a disposizione le email personali di ognuno di noi che siamo qui di fronte alle telecamere, sapendo che dall'altra parte abbiamo una valida, validissima, indispensabile mano dei nostri tecnici, ad esempio oggi Roberto Coccomazzi che voglio subito ringraziare. Non lo facciamo abbastanza, caro Giovanni, magari chissà troveremo anche degli spunti biblici prima o poi per ringraziare le tante persone che diamo per scontate. Che dici? Ringraziamo a priori per il servizio e il servizio deriva sempre da un percorso di conversione più o meno evidente e anche più o meno consapevole nello stesso soggetto perché magari uno non se ne accorge ma servendo si impara anche a servire. Però la scrittura ci offre dei punti di riferimento e basta. Poi a me non piace usare la scrittura come manuale, prontuario, perché non si tratta di questo. È un brutto servizio che si compie alla scrittura. Non è un manuale, non è un prontuario. È appunto la parola di Dio e inserisce colui che ci sta dentro nel dialogo orante fra Dio e il suo popolo. La parola di Dio indica un percorso e ti porta a camminare dentro questa strada che è la strada che Dio ha offerto prima al suo popolo e poi in Gesù Cristo che è la via stessa, la verità e la vita. Quindi dobbiamo togliere questi errori che circolano in giro, sgombrare il campo da errori evidenti. Quindi la parola di Dio appunto indica un percorso, non è da usare come un prontuario, apro e chiudo. E anche questa è un'indicazione importante di interpretazione perché purtroppo è un frutto velenoso, avvelenato del nostro tempo a livello proprio mediatico, volere avere a disposizione sempre pillole di qualcosa oppure come si fa, come si ottiene un certo risultato. E se facciamo questo anche con il testo sacro, come ci ha insegnato Giovanni, siamo invece fuori strada. È la strada del fondamentalismo che si esprime poi anche attraverso manifestazioni varie oggi nella nostra società perché la Bibbia è la parola di Dio, anche qui c'è una differenza come noi abbiamo molto sottolineato nelle trasmissioni scorse tra queste sfumature, implica un percorso del soggetto, un cammino di conversione. E adesso a proposito di conversione, in effetti già qualcuno, quando abbiamo cominciato ad accennarne subito dopo la lettura della bolla di indizione del giubileo dedicato alla misericordia, che come ben sapete comincerà l'8 dicembre di quest'anno, avevamo appunto già ribadito che saremmo tornati a questo testo che ci parla del volto della misericordia e che è stato letto proprio nei primi vespri della festa della Divina Misericordia, quindi lo scorso 11 di aprile. E non è stato letto tutto perché in effetti è una bolla piuttosto lunga. È normale che sia così, Giovanni? Sì, poi è discrezione appunto di chi la sottoscrive perché affinché si possono... Ha fatto tutto il programma, le caratteristiche. Sì, sì, diciamo di sì. C'è tutta un'analisi biblica, ecclesiologica, pastorale, quindi è molto densa. E quindi, Monsignor Leonardo Sapienza, lo vediamo, ma sono io a leggervi uno spunto che ci ricollega al grande San Giovanni Paolo II, di cui si torna a parlare per mille diverse occasioni. E noi sappiamo benissimo come il suo pontificato fosse nel segno dell'amore e della protezione di Maria. Il suo motto è stato Totus Tus. Lui era nato il 18 maggio, tra l'altro quest'anno avrebbe compiuto 95 anni. Quindi voglio subito andare al punto 11 della misericordia e vultus. Non possiamo dimenticare il grande insegnamento che San Giovanni Paolo II ha offerto con la sua seconda enciclica di Vessi in Misericordia, che all'epoca giunse inaspettata e colse molti di sorpresa per il tema che veniva affrontato. Il Santo Papa rilevava la dimenticanza del tema della misericordia nella cultura dei nostri giorni. La mentalità contemporanea, questo è un virgolettato, forse più di quella dell'uomo del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende ad emarginare dalla vita e a distogliere dal cuore umano l'idea stessa della misericordia. Sì, si è detta un'enciclica inaspettata, ma in realtà il Pontefice aveva fatto esperienza della divina misericordia dopo quel 13 maggio del 1981, sempre nel mese Mariano, Santa Maria di Fatima, giorno nel quale fu miracolosamente salvato da quel proiettile che si fermò a pochi millimetri da un organo vitale e che ne avrebbe comportato la morte immediata. E quindi lui aveva fatto esperienza di questa misericordia. Ed eravamo nel 1983 anno di quel giubileo straordinario per i 1950 anni dalla morte e resurrezione di Gesù, anche se le analisi storiche attuali ci hanno mostrato che Gesù muore e risorge nei primi di aprile dell'anno 30. Ma diciamo convenzionalmente per la vita della Chiesa e per la nostra storia è quella altra data di riferimento e quindi nel 1983 si celebravano questi 1950 anni. E quindi in un tempo particolare che poi avrebbe mostrato ulteriori aspetti che dovevano manifestarsi come il crollo del muro di Berlino, il crollo del comunismo inteso in quella maniera che tutti conosciamo e quindi era una stagione nuova per l'umanità. Giovanni Paolo II con questa enciclica riprende il pensiero di sua Faustina Kowalska che lui stesso volle beatificare e proprio inserire la festa in questa Domenica della Divina Misericordia, mistica polacca che dal 1933 al 1938 aveva ricevuto queste rivelazioni private di Gesù misericordioso all'immediata vigilia di una stagione molto dura per l'umanità. C'è anche dentro già una stagione terribile perché Hitler era già arrivato al potere proprio nel 1933. Era arrivato al potere e poi il primo settembre del 1939 invaderà proprio la Polonia. E proprio fra le rivelazioni private che ricevette Sor Faustina Kowalska si parlava del grande onore che sarebbe stato attribuito alla Polonia se solo avesse seguito la volontà di Dio perché dalla Polonia sarebbe uscito colui che avrebbe guidato la Chiesa in questo millennio. E' appunto riferimento chiaro a Giovanni Paolo II. E' curioso che subito sotto questo passaggio che vi ho letto, sempre della bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, c'è un riferimento al Genesi, a quel capitolo 1 che noi tanto abbiamo sviscerato nelle prime puntate del nostro programma. La parola e il concetto di misericordia sembrano porre a disagio l'uomo che grazie all'enorme sviluppo della scienza e della tecnica, scrive il Papa, non mai prima conosciuto nella storia, è diventato padrone, ha soggiugato e dominato la Terra. Tale dominio, inteso talvolta unilateralmente, sembra che non lasci spazio alla misericordia. E' abbastanza, diciamo, anche un tono, come dire, che sembra lontano da questo Papa. Si sentono anche echi di quel millenarismo che ancora si riaffaccia, di quella paura del domani, di questa tecnica che, secondo un filosofo non dei meno importanti, sta per soggiogare l'uomo. Senza dubbio si percepisce questo che dici tu, ma il testo guarda anche lontano, profeticamente, e cioè a dove poteva arrivare questa nuova polarizzazione, possiamo dire, per l'umanità moderna, perché tutto questo predominio della tecnica va a sostituire il bisogno di salvezza e di redenzione dell'uomo contemporaneo, che può affidare ad altro il proprio bisogno, invece che rivolgersi a Dio. Qualche altro piccolo passaggio. San Giovanni Paolo II, così motivava l'urgenza di annunciare e testimoniare la misericordia nel mondo contemporaneo. Essa è dettata dall'amore verso l'uomo, verso tutto ciò che è umano, e che, secondo l'intuizione di gran parte dei contemporanei, è minacciato da un pericolo immenso. Il mistero di Cristo mi obbliga a proclamare la misericordia, quale amore misericordioso di Dio, rivelato nello stesso mistero di Cristo. Un pericolo immenso, si diceva. E quale, appunto, questo pericolo, questo disagio per l'umanità? Sostanzialmente, quello di costruire un mondo relegando Dio nella marginalità. Come se Dio non ci fosse, sostanzialmente. Questo si sarebbe manifestato sia a livello politico, con quella crisi profonda che aveva generato un certo sistema comunista, poi crollato, anche grazie al contributo di Giovanni Paolo II, e poi ad una, diciamo, forte crisi economica che si sarebbe sviluppata successivamente, almeno dal 2008 in poi, in tempi ulteriori, anche postumi alla morte di Giovanni Paolo II, perché le cose, diciamo, sono lunghe nei loro percorsi, nelle loro stagioni. Alcuni indizi si manifestano prima e poi esplodono dopo. Sì, però, anche se qui non possiamo parlarne a lungo, dobbiamo rendere ancora una volta grazie a Giovanni Paolo II che immediatamente, già nei primi anni 90, denunciava come molto pericoloso il pensiero unico del capitalismo. Certo, sì. Lui guardava avanti, non si è soffermato, come dire, sugli allori, come tanti avrebbero fatto, poiché era stato tra i protagonisti della distruzione di un sistema del male come il comunismo. Sì, era bipartisan la sua critica profonda, profonda a tutti coloro che non vivono secondo Dio e secondo il progetto di Dio sul mondo. E poi, di contro, abbiamo un uomo contemporaneo che è sempre più marginalizzato la presenza di Dio anche a partire dalla parola di Dio che è divenuta sempre più estranea nella vita della quotidianità della gente. E invece io direi che c'è un grande genio, un genio che potremmo dire in generale del cristianesimo, pensando e riecheggiando anche uno scrittore francese che forse potremmo anche riprendere in mano, in questo trovare un nuovo punto di vista per cercare di smantellare questi nuovi muri terribili, i muri del profitto che impediscono ancora a tante persone di avere una vita dignitosa. Anzi, come sapete, la tendenza è proprio schiacciare, continuare a schiacciare le minoranze che non sono all'altezza di questo turbocapitalismo per andare comunque avanti in questo sistema che sembra proprio, come nella favola dell'apprendista stregone, essere uscito dal dominio delle persone stesse che lo hanno voluto. Perché parlo comunque del genio? Perché il punto di vista del guardare al creato, guardare la terra, che è comunque lo spazio sia pure sempre più piccolo per vari motivi, dove siamo gettati, è uno spazio che ci mette insieme e che la Bibbia ha sempre aiutato a leggere. Perché in fondo, come anche con Giovanni abbiamo detto qualche volta, c'è sempre lo stesso uomo dentro di noi che contempla il creato ma ne ha anche paura. Noi con il cristianesimo abbiamo imparato a lasciarci alle spalle tanti timori, tanti terrori, che il sole non sorgesse più come potevano avere i primi uomini e tante altre appunto paure che ancora sono documentate grazie alla profondità di tanti studi antropologici. Ma per fortuna in tutto questo quadro c'è anche chi ci ha scritto, ringrazio Massimiliano da Milano, forse anche, chissà, sull'onda dei temi di Expo, che dice «Lodiamo il Signore per il creato, il cibo, la bellezza» e ha chiesto a noi di farlo anche attraverso le parole della Sacra Bibbia. E naturalmente quale migliore occasione che scegliere appunto i Salmi. Andiamo subito al Salmo 18. Signore, mia roccia, mia fortizza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoca il Signore degno di lote e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano a guati mortali. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo Tempio ascoltò la mia voce. A lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. La terra tremò e si scosse. Facillarono le fondamenti dei monti. Si scossero perché egli era adirato. Dalle sue narici saliva fumo. Dalla sua bocca un fuoco divorante. Da lui sprizzavano carboni ardenti. Abbassò i cieli e discese. Una rupe oscura sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava. Si librava sulle ali del vento. Si avvolgeva di tenebre come di un velo, di acque oscure e di nubi come di una tenta. Davanti al suo fulgore passarono le nubi, con grandine e carboni ardenti. Il Signore tonò dal cielo. L'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carboni ardenti. Scaiò saette e li disperse. Fulminò con fulgori e li sconfisse. Allora apparve il fondo del mare. Si scoprirono le fondamente del mondo. Per la Tua minaccia, Signore, per l'ospirare del Tuo furore. Stese la mano dall'alto e mi prese. Mi sollevò dalle grandi acque. Mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano più forti di me. Mi assalirono nel giorno della mia sventura, ma il Signore fu il mio sostegno. Mi portò a largo. Mi liberò perché mi vuol bene. Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia. Mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani. Perché ho custodito le vie del Signore. Non ho abbandonato come un empio il mio Dio. E insomma, la classificazione del Libro dei Salmi ci dà anche qualche sorpresa. Il Salmo 18, secondo altra versione, è il celebre Narrano i Cieli, la gloria di Dio, che tante volte abbiamo cantato in chiesa, penso. Giovanni, comunque anche qui, in quello che abbiamo ascoltato, c'è una coincidenza, un filo con l'altro Salmo, là dove dice Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore, i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Quindi anche i comandi di rispettare, appunto, il creato, ti pare? Sì, insomma, quando Dio crea il vertice di questa creazione è senza dubbio l'uomo, tutto il creato è fatto per l'uomo e l'uomo è chiamato ad esserne custode. Poi, per quanto riguarda l'idea della bellezza, è senza dubbio sottesa a tutto questo atto di Dio, atto che crea di Dio. Infatti, anche nella versione ebraica del racconto del Libro della Genesi, per esempio, Dio aggiunge sempre quella parola Tov, Tov è molto buono, è buono tutto ciò che crea. Quando crea l'uomo e la donna, aggiunge un molto, è molto buono. È come nell'augurio Masel Tov, che significa in ebraico buona fortuna, ecco. È ebraico moderno, evidentemente. È un augurio, ecco, che ho sentito fare. Shalom, l'augurio ebraico è shalom. È pace, certo. Ma non solo pace, benedizione, salute, prosperità, benessere. E dunque è il termine shalom che ha al suo interno sia l'idea di pace, ma anche quella di bellezza, di bontà, perché è la benedizione di Dio. È il dire bene di Dio. Dio dice bene ogni cosa. Questa è la benedizione. Dunque, la benedizione è parola di Dio. E Dio crea attraverso la sua parola, perché l'autore biblico ce lo dice, non c'era nulla. Anzi, la parola è quella che crea. Dio disse con questo atto a inizio la creazione, con la parola di Dio che risuona nell'universo, risplende e determina luce che irrompe nelle tenebre. E quindi abbiamo anche pur un collegamento con la scienza, col Big Bang, perché abbiamo questa esplosione di luce che è un atto che dà lode a Dio. Ma tutto avviene attraverso la potenza della parola di Dio. Sì, poi con la famosa scoperta del bosone di Higgs, qui proprio ci sta bene il tuo riferimento, quando andiamo a immaginare che praticamente questa esplosione è avvenuta in un miliardesimo di centesimo di secondo, quindi qualcosa che a livello temporale noi non riusciamo nemmeno minimamente a immaginare. È un po', no? All'estremo c'è l'eternità che ugualmente non riusciamo a immaginare. Troviamo la poesia davvero anche delle scoperte scientifiche, non ti pare? Sì, che devono, senza dubbio, non si oppongono alla fede, come anche sempre Giovanni Paolo II ha avuto modo di sottolineare nella Fides et Terazio, ma appunto ci portano fino ad un livello oltre il quale si ha di fronte il mistero con la sua grande sorpresa, con la sua meraviglia e questa risplende in particolar modo sulla creazione. Dobbiamo poi sottolineare che di fronte alla creazione se assumiamo proprio la metodologia scientifica possiamo parlare di ipotesi e mai di teorie proprio perché sarebbe mancato un testimone iniziale che avrebbe reso quell'evento in sé scientificamente verificabile e riproponibile. Invece si parla di divenire come un passaggio anche scientificamente ulteriore nel quale c'è a meno un testimone anch'esso legato al mondo fossile o alla biologia molecolare ma anche qui ci si accorge che il processo avviene per salti. c'è sempre qualcosa che manca dove potenzialmente irrompe Dio con la sua con la sua creazione con il suo completamento anche questo è molto interessante è la stessa dinamica che avviene durante i miracoli quando avviene un miracolo di guarigione quando Gesù guariva il paralitico agiva in un certo modo in deroga alle leggi della scienza di continuità di fissità di una patologia in atto e Gesù agiva in deroga e abbiamo fatto un bel percorso oggi davvero stiamo andando come dire a fare dei carotaggi dove l'animo umano prima o poi si appoggia se riflettiamo su noi stessi e sulla natura si parla di nuovo umanesimo giusto giusto ci prepariamo per novembre per le assise della chiesa italiana ma voglio anche mostrarvi di nuovo i nostri recapiti vi ringrazio ovviamente se vorrete tornare a scriverci anche per fare richieste particolari sulla Sacra Bibbia Bibbia e famiglia chiocciola tele radio padre pio punto it e Giovanni come mai siamo arrivati da quel timore da quel chiedere comunque perdono al Signore che è roccia che ci sostiene a una come dire disinvolta continua utilizzazione sfrenata del creato perché abbiamo trovato sicurezza e certezza in altro e abbiamo ritenuto di essere autosufficienti in questo cammino spensierato e di adultità possiamo dire lontano da Dio e questo è stato un errore perché chiaramente è un'esperienza che fa emergere nuove fragilità nuove marginalità anche all'interno della nostra storia umana nuove discriminazioni di fronte alle quali risuonano e risplendono le testimonianze di tanti cristiani le testimonianze dei martiri cristiani di cui le ultime stagioni sono molto ricche e adesso allora comunque vogliamo proseguire con questo salmo e poi passeremo a un'altra richiesta signore tu dai luce alla mia lampada il mio Dio rischiara le mie tenebre con te mi getterò nella mischia con il mio Dio scavalcherò le mura la via di Dio è perfetta la parola del Signore è purificata nel fuoco egli è scudo per chi in lui si rifugia infatti chi è Dio se non il Signore occhi e roccia se non il nostro Dio il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino mi ha dato agilità come di cerve e sulle alture mi ha fatto stare saldo ha addestrato le mie mani alla battaglia le mie braccia a tendere l'arco di bronzo tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza la tua destra mi ha sostenuto mi hai esaltato e mi hai fatto crescere hai spianato la via ai miei passi i miei piedi non hanno vacillato viva il Signore e benedetta la mia roccia si è esaltato il Dio della mia salvezza Dio tu mi accordi la rivincita i sottometti i popoli al mio gioco mi salvi dai nemici furenti dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento per questo Signore ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome egli concede al suo re grandi vittorie si mostra fedele al suo consacrato a Davide e alla sua discendenza per sempre e quindi direi grande certezza più che richiesta grande incrollabile fiducia che ha fatto esperienza di Dio ha una concretezza di fronte a sé vede le opere che Dio ha compiuto per lui e non può tacerle non può non narrarle di questo si tratta con tanta limpidezza semplicità chiarezza questo significa fare esperienza della misericordia di Dio perché la misericordia di Dio si manifesta attraverso svariati modi ma tutti concreti tutti visibili è aiuto è è conforto consolazione speranza tutte tutte queste tutti questi valori importanti di cui chi ne parla ne ha fatto esperienza e allora cito anche il versetto 10 dal salmo 18 dell'altra classificazione quello appunto di narrano i cieli la gloria di Dio il timore del Signore è puro dura sempre i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti più preziosi dell'oro di molto oro fino più dolci del miele di un favo stillante allora qui è tradotto bene il timore del Signore cosa si intende sì perché è timorato di Dio chi ha fatto esperienza del suo amore e della sua misericordia e quindi si pone di fronte al Signore questo significa aver timore di Dio non è quella manifestazione di sottomissione tipica anche in altre religioni ma è un rapporto dialogico che Gesù verrà a chiarire una volta per tutte quando dirà non vi chiamo più servi ma amici perché il servo è trattato alla stessa stregua del padrone così possiamo dire e quindi c'è un salto di qualità nella relazione con Dio e questi giudizi non sono altro che la parola stessa di Dio molto bella così come è presentata più dolce del miele è di un favo stillante e adesso a proposito di amici che vengono trattati in maniera speciale ricordiamo di nuovo il miracolo delle nozze di Cana perché perché Piero ha scritto non capisco se questa pagina del Vangelo è un racconto vero oppure una parabola e poi aggiunge come si fa a sapere quando la spiegazione del Vangelo è un'interpretazione personale del sacerdote forse qui c'è un sottinteso che noi non conosciamo comunque per adesso rispondiamo alla prima parte è chiaro che è un racconto vero e non una parabola? Ma guarda Cana fa parte della tradizione propria dell'evangelista Giovanni è un racconto che ci narra soltanto lui perché evidentemente era anche presente a questo matrimonio perché insieme a Maria c'era anche c'era anche un gruppo di discepoli senza dubbio e dunque riteniamo che in ognuno di questi racconti ci sia una base e un fondamento storico soltanto che c'è una scelta dei singoli evangelisti alcuni insistono su alcuni aspetti altri decidono di fare una scelta differente soprattutto Giovanni che è un teologo coglie in Cana un segno che è in grado di richiamare altro una futura manifestazione di Gesù e della sua ora e dunque come si fa a capire il criterio c'è senza dubbio si cerca di inserire un racconto nel suo ambiente attraverso una dicitura molto nota in lingua tedesca sit sim leben il contesto vitale significa c'è un contesto vitale nel quale il racconto è generato e poi e che testimonia la veridicità che testimonia la storicità di quanto andiamo a dire c'è poi un confronto fra le fonti e dunque gli studiosi cercano di verificare se un evento è raccontato solo una volta o più volte se c'è concordanza ma scusa l'ingenuità siccome Piero dice non capisco se sia un racconto vero o una parabola ma non potrebbe essere tutte e due ecco qui stavo arrivando perché uno studio che è anche fatto e che si può anche fare ulteriormente è quello di vedere per esempio sulla misericordia spostiamo un attimo l'ambito di attenzione abbiamo tante parabole soprattutto in Luca sulla misericordia ma è bello andare a vedere dove ci sono dei racconti che possono confermare quanto Gesù ha detto in parabole Gesù parlava in parabole ma parlava anche attraverso dei racconti e dunque ciò che ti dice la parabola te lo dice anche qualche altro racconto ora nel caso di Cana abbiamo un percorso unico perché è presente soltanto nel Vangelo di Giovanni ma Gesù in altri luoghi lascia intendere che lui deve manifestarsi e anche altri miracoli hanno la stessa idea alla base e cioè che Gesù è il Signore della vita del creato il Signore dell'uomo del sabato e che è venuto a portare la vita eterna e che compie le stesse opere del padre e certo dunque le pagine del Vangelo di Luca potremo proporvele anzi potreste essere già voi stessi a scegliere alcune il Vangelo della misericordia quello è un particolar modo di Luca ma non dobbiamo andare avanti per slogan anche qui si sente a volte in giro soprattutto in questo tempo di giubilare tutti vanno verso questa misericordia ma dobbiamo trattarla bene scritturisticamente perché abbiamo detto tutta l'opera di Dio è misericordia e Gesù nelle parole nelle opere manifesta la misericordia del padre dunque non dobbiamo andare a cercare soltanto i brani in cui c'è scritto il termine misericordia ma dobbiamo vedere la situazione il contesto ecco a proposito di contesto qualche secondo proprio prima di chiudere dunque questa altra parte della domanda come aiutare chi segue le omelie a discernere se quello che stanno ascoltando è come dire una dissertazione personale del celebrante oppure effettivamente una spiegazione dice Piero del Vangelo da un lato sulle omelie peraltro si discute sempre c'è un'infinità di libri di battute adesso sentiamo anche il parere di Giovanni Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium è data le indicazioni molto efficaci a coloro che si preparano per le omelie e anche per di approfondimento della parola nella vita della Chiesa quindi io rimando a quelle per quanto riguarda tutti i sacerdoti per quanto riguarda invece il popolo santo di Dio ormai non è più giustificato perché dopo il concilio Vaticano II i laici devono avere una maggiore maturità nell'approccio alle sacre scritture io consiglio sempre l'alexio divina andate nelle varie parrocchie nelle comunità dove si pratica l'alexio divina perché è un percorso molto utile e vi potrà consentire di accostarsi in modo meno ingenuo alla parola di Dio benissimo una spiegazione perfetta ricordiamo anche che comunque all'interno di una cosa così immensa così misteriosa come la Santa Messa l'Omelia non è certo la parte principale permettimi di ricordarlo ma è la prosecuzione del dialogo fra Dio e il suo popolo così come ha detto mirabilmente Papa Francesco nella Evangelicalium grazie ancora a tutti voi di averci seguito grazie naturalmente al professor Giovanni Chifari che ritroverete insieme con me se vorrete essere anche voi qui mercoledì prossimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti